pronto pronto buongiorno buongiorno allora chi sei? sono Emanuele a parte che spengo la radio perché mi sembra che sono un accapassante bizarra figura bravo spegnila adesso Emanuele ci sei Emanuele ciao ciao sono Emanuele ah come l'ascoltatore di prima ok sto cercando dalle scatole di ovo maltino vuota o piena di ovo maltino vuote vuote quante devo fare una storia che facevo quando ero piccolo ci mettevo il carburo bagnato con un buco sulla base poi ci mette sopra il dito poi il carburo bagnato faceva il gas mettevo sopra la fiammella e faceva un botto un botto di divertimento ma non è che ti esplode in mano scusa no 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 io sto contestando i botti di capodanno ah quindi è in funzione prossimo capodanno questa questa ricerca che porco zio adesso Emanuele numero di telefono o email non so dici tu adesso è un abbonato mitico azionista grande quindi non farò un giro nel radio va bene ma non lasci un recapito per le ovo maltine sì sì vai ma vabbè 0-2-21-40-598 allora aspetta che Elton è un po' lento 0-2-21-40-598 è velocissimo Elton ciao Emanuele ciao 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 allora mi ha fatto venire in mente una cosa pazzesca beh vogliamo ripeterlo sì sì Emanuele quindi cerca scatola di ovo maltina vuote per i suoi gas 0-2-21-40-598 ripeto Emanuele 0-2-21-40-598 allora tu sei troppo giovane